Ragazze, possiamo iniziare ufficialmente a impacchettare. Ciao Elena. No, ciao no. Volevo sapere se per stasera la torta era... era... Scusa un attimo. Ma, credo che ci aveva Chiara. Ma sta cambiando colore? Sì, perché diventa un po' più... In base al tuo piacca. In base al tuo piacca. Scusa un attimo.